con il corpo bandistico di Cappella Maggiore, qua vedo un 90, 90? 90 anni? Direttore, lei è il direttore vero? Eh? Presidente E lei è il presidente, però 90 anni non li dimostra, non l'avrei mai detto 90 anni del corpo bandistico che da anni oramai è corpo integrante dei carnevali di Vittorio Veneto E allora ascoltiamoli Beh, è una musica che potrebbero anche cantare, eh? Eh sì, eh? Oh come è bella l'uva focarina, oh come è bella saperla vendemmiare A far l'amor con la bella, a far l'amore in mezzo in campo Stati e sozzeriete Corpo bandistico di Cappella Maggiore, 90 anni ma non li dimostrano, eh? Ah, sozzeronte Grazie